Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova apertura Credo che sia la quarta puntata o terza E oggi siamo con Animal Action 3D Card Come abbiamo potuto vedere Nei scorsi video abbiamo trovato Nella prima puntata un papagallo Nelle altre due il canguro e lo squalo Nell'ultima la giraffa e leone Sempre della giungla E niente allora questa è la quarta puntata Intanto vediamo qua un Psyduck Mi fa paura E niente apriamo Allora se ce l'ho ovviamente Non so che fare Invece se non ce l'ho metto la canzoncina We are the champions Ok visto che queste puntate Non so come abbiano fatto ad avere tanto successo Ha detto perché non continuo Allora qua abbiamo 3, 2, 1 Ok abbiamo trovato l'orso polare Carina immagine Un sasso, un ghiacciaio Un iceberg Ursus maritino La telecamera No mo la telecamera La videocamera non prende a fuoco Ok E niente Ovviamente faccio l'istruzione Qua si spinge Ed esce E Sai da Togliti Ma dove mi fa paura Questa E ovviamente scherza E no qua sono tutte le cose Artiglio Tutte le cose Sensi Poi qua E Codice RAP E no Si non so se si dice codice Non lo so No no Quale è per il 3d Scusate E Quale è un codice Che si fa col telefono E niente Per questo video a tutti Ci vediamo al prossimo